E-Mobile è un progetto che è nato dalle esigenze raccolte dal Comune di Fano, in particolare dall'assessorato ai servizi educativi e alle biblioteche, che Tecfem ha semplicemente appoggiato, ascoltato e ha capito che sarebbe stato molto importante e comunque allineato nelle iniziative di sostenibilità che l'azienda promuove sul territorio. Quindi un progetto dedicato ai giovani, all'educazione civica digitale, quindi allo sviluppo delle capacità e della cultura nell'utilizzo degli strumenti e delle fonti web e social, che è molto importante curare sin da giovani, quindi dare i giusti mezzi, strumenti e linee guida ai ragazzi per poter essere dei cittadini digitali, nativi lo sono, ma digitali consapevoli. Andando nella concretezza, si tratta di una dotazione hardware che l'azienda ha fornito tramite l'art bonus al Comune, e sostanzialmente si tratta di un set di computer portatili inseriti all'interno di un carrellone bello attrezzato per gli spostamenti, che viene quindi trasferito dalla Memo alle varie scuole medie della città e quindi consente di arrivare direttamente nelle aule con una dotazione hardware, software anche, non solo di PC ma anche di kit per il coding, per la programmazione, quindi per oggetti, con i quali viene trasferita quindi un certo skill ai ragazzi per l'utilizzo di questi strumenti digitali.